nuovo appuntamento nuova puntata con facciamo finta che quest'oggi abbiamo abbiamo un super ospite quindi io non perdo tempo e lo andiamo a presentare insieme a me quest'oggi professor corrado malanga intanto grazie per questa intervista e benvenuto grazie a voi della vostra ospitalità buonasera buonasera allora partiamo 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 subito collegandoci con quelle che sono state anche le nostre puntate precedenti si è parlato di civiltà antidiluviane civiltà dal grande passato di una grande botta e con te scopriremo che in realtà le grande botte sono state due e partiamo dal principio 36 mila anni fa professore che cos'è accaduto ma stando ai lavori scientifici che sono pubblicati e al buon senso che non manca mai nella ricerca scientifica circa 36 mila anni fa mille anni più mille anni meno è cascato un grosso oggetto sulla terra facendo il cataclisma tremendo in quel periodo questo oggetto sembra essere non ci sono prove ma diciamo nel mito se ne parla sembra essere una piccola luna che era in orbita attorno alla terra quando ancora dicono gli antichi la luna che abbiamo oggi non c'era entrando in orbita questo grosso oggetto cioè la luna ha destabilizzato la piccola luna che c'era prima che nel giro di un anno circa è caduta rovinosamente sul nostro pianeta e tutto sarebbe documentato dalle cronache degli aztechi i quali avrebbero registrato anche più di 300 eclissi in un anno di questa luna che piccola che era in come impazzita prima di cascare sulla terra cadendo questo oggetto c'è stato un grande maremoto è cambiato il clima perché l'asse terrestre e si è modificato nella sua inclinazione e successivamente negli anni a venire dopo qualche migliaio di anni ancora l'asse magnetico si è modificato e quello che è successo è che quel popolo che allora si pensava abitare l'antantide cioè quello che noi oggi identifichiamo come l'atlantide quel tempo lì quel popolo è scappato da quel posto che era diventato non più vivibile ed ha colonizzato praticamente tutto il resto del mondo soprattutto le coste dell'america del sud dell'america del nord pacifico e oceano atlantico e dell'europa dell'africa fino a spingersi all'europa praticamente del nord ma non dimentichiamoci che ci troviamo tracce di questa popolazione anche in australia e quasi tutte le parti del mondo in cina in russia e vedremo meglio questo poi andando a studiare tutte quelle strutture megalitiche che sono in tutte le parti del mondo e che noi abbiamo ritrovato e che non sapendo oggi a chi attribuire la costruzione che attribuire non possiamo che pensare che siano stati questi soggetti gli atlantidei che poi sono stati anche coloro che hanno dato vita alla civiltà antico egizia bene questi signori atlantidei tra le caratteristiche li andiamo a descrivere come un cranio allungato e questo cranio allungato ne abbiamo anche già parlato ce ne sono di varia natura compaiono un po in giro in tutto il mondo anche se testimonianze mi dicono che poi in realtà in molti musei sono quasi spesso a tenute nascoste momentaneamente non disponibili e vogliamo parlare di questi crani allungati professore sì quando io ho cominciato questa ricerca credevo che ci fossero pochi esemplari di crani allungati dolico cefali come vengono chiamati e in realtà mi sono dovuto ricredere perché le ricerche fatte portano a vedere che questi crani allungati sono in tutte quelle parti del mondo dove ci sono altre caratteristiche per esempio dove ci sono costruzioni di tipo piramidale dove ci sono costruzioni di dolmen quindi siamo nel neolitico dove non ci dovrebbero essere né la ruota né nessun attrezzo che permette di costruire cose così importanti e megalitiche ma ci troviamo negli stessi punti dove nascono dei linguaggi di tipo geroglifico geroglifico quasi uguale l'uno all'altro molto simile al geroglifico classico che noi tendiamo a conoscere che è quello giziano ma non basta nei posti dove ci sono tutte queste caratteristiche c'è la percentuale negli esseri umani che ci abitano di fattore RH negativo del sangue quindi abbiamo pensato che siccome il fattore RH negativo del sangue è comparso storicamente 36.000 anni fa e guarda caso 36.000 anni fa corrisponde a due o tre cosette che sono successe in questo periodo una l'abbiamo detta la caduta della luna piccola due lo zepte cioè l'inizio dei tempi come gli antichi egiziani lo chiamava in quell'istante comincia per esempio in Egitto la cultura egiziana tenete presente che siamo nel neolitico quindi gli egizi non potevano costruire le piramidi perché non avevano la ruota conoscevano a malapena il fuoco e non avevano la cultura della scrittura niente e un bel giorno si trovano con la costruzione della piramide delle tre piramidi di Giza che quindi evidentemente non hanno 4.000 anni come dice Zaki Awas con pace sua e di tutti quelli che hanno il minimo di buonsenso e che sanno leggere nei lavori scientifici veri e ci ritroviamo con costruzioni analoge in tutte le parti del mondo costruzioni analoge che hanno una caratteristica fondamentale sono tutte rivolte nord sud con grandissima precisione e va detta anche un'altra cosa che queste costruzioni cambiano lievemente di inclinazione col cambiare documentato della inclinazione nel campo magnetico terrestre come se fosse il 3 4 5 6 mila anni dopo i 36 mila anni iniziali fosse necessario per forza di cose per loro avere questi strani queste strane costruzioni che ovviamente non sono tombe come dice qualcuno sprovveduto sempre però diretti verso il nord era una cosa strana bene e fra l'altro come se non bastasse fra l'altro Awas è anche colore che ha detto che Gobekli Tebe non esiste quindi cominciamo anche a collocarlo anche su fatti abbastanza eclatanti ecco giusto per far capire Zaki Awas è quello che non solo dice che Gobekli Tebe che non esiste ma ha palesemente truccato i dati perché siccome lui era il capo praticamente dello studio della Piana di Giza entrando nella piramide si vede che lui ha modificato la struttura della piramide per non far comprendere a chi andava a vedere determinate cose ed è per questo che Zaki Awas non permette non permetteva di fare fotografie all'interno della stanza per esempio del re dove si vedeva chiaramente che c'erano state delle manipolazioni per esempio nel pavimento c'è un buco che è stato tappato ed è un buco che è importante perché da lì usciva ed entrava un masso che serviva ad aprire e chiudere una certa porta che serviva a far entrare la vasca di pietra di granito dove dentro qualcuno ha pensato con la propria fantasia di mettere il corpo del faraone e che non è assolutamente vero nella stanza della regina ha alterato il pavimento visibilmente non facendo capire a che cosa serve quella specie di struttura incassata nel muro a forma di cassa armonica di uno strumento musicale come poi vedremo e quindi poi per dire c'è una piramide non finita a 6-600 metri dalla piramide di Cheope che in realtà è la piramide di Khnum Khufu così come si deve chiamare correttamente una piramide chiamata El Ariane questa piramide non finita non è affatto una piramide è un buco per terra fatto in un certo modo ebbene per non far scoprire questa cosa che ci avrebbe dato l'opportunità di farci degli studi sopra Zakiawas l'ha riempito di sabbia e ci ha costruito una caserma sopra questo per dire come ha modificato ha impedito agli studiosi francesi belgi e inglesi di fare uno studio su una particolare piramide al di sotto della quale in Egitto c'era un labirinto di questo labirinto non ne parlava nessuno non aveva dato il permesso alle truppe nemmeno di fare le riprese poi alla fine questi scienziati hanno aspettato tre o quattro anni che il tribunale egiziano permettesse di entrare a fare le loro ricerche dopodiché senza permesso ha pubblicato le ricerche lo stesso su internet e da lì si è capito un sacco di cose noi andiamo veloce perché noi in questa trasmissione facciamo finta ma comincio a dire fin d'ora che se siete alle prime anni o comunque qualcosa di risuona potete fare la ricerca di un po tutte le parole chiave che stiamo dicendo perché con i libri con le conferenze con il canale youtube del professor malanga è spiegato tutto bene 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 e potete su ogni argomento trovare dalle due o tre ore che scorrono che è una meraviglia in cui c'è tutta la spiegazione per file per segno ma ritorniamo alle piramidi ritorniamo alle piramidi perché lo abbiamo già accennato più volte anche con ingegneri tutti dicono comunque altro che toma questa qui è una macchina è una macchina di ingegneria poi qualcuno magari si ferma e invece io voglio parlare proprio abbiamo già accennato un pochettino di questa teoria del professor malanga su questa piramide con la stanza del re la stanza della regina che intanto abbiamo già visto qualche immagine e andiamo a vedere in concreto quindi andremo anche abbastanza velocemente ricorda che poi ovviamente ci sono tutti i riferimenti per chi li vuole per filo e per segno andiamo a raccontare che cosa accadeva in queste due stanze si molto rapidamente quello che non si sapeva ma che si poteva intuire è che la piramide di che è costruita vicino a quello che era il percorso del libro una volta quindi era era molto più vicino diciamo a poche centinaia di metri c'era una struttura che prelevava l'acqua dal mino e riempiva una vasca gigantesca che circondava con un muro praticamente divisorio la piramide praticamente la piramide stava a mollo nell'acqua questo spiega anche perché attorno alla piramide sono state trovate due barche alcuni hanno dato l'accezione di essere le barche che avrebbero dovuto in qualche modo trasportare l'anima del faraone nell'oltratomba pensate che queste barche non hanno né l'albero né la vela quindi non sono barche fatte per viaggiare nel nilo né nel mare sono barche che servivano per spostarsi con i gremi e per permettere agli operai che viaggiavano nell'acqua attorno alla piramide di fare qualcosa l'acqua deriva tirata su con delle opportune eliche di granito che sono state ritrovate anche nel stata ritrovata una al museo egizio del cairo se io che con acqua esatto abbiamo la foto questa che è di mezzo metro di larghezza quindi pensate è una cosa di un prezzo unico oggi non avremmo la tecnologia per costruire una cosa del genere non ce l'avremmo tante di queste eliche opportunamente montate a diversi livelli a diversi stadi portavano l'acqua a 68 metri dove c'è un buco praticamente di entrata che è lo shaft come si dice il canale di entrata che porta alla stanza del re questo canale che non è un canale di areazione serve per riempire di acqua la stanza del faraone abbiamo notato che il buco di entrata e l'altro shaft di uscita avevano la stessa altezza tra di loro e la stessa altezza del sarcofago quindi il sarcofago non si riempie mai di acqua perché quando l'acqua è arrivata a salire fino all'altezza del limite del sarcofago esce per capillarità dall'altra parte e dove va a quest'acqua va a riempire la stanza di sotto della regina con un opportuno collegamento di shaft vi ricordo che gli shaft della stanza della regina cioè questi due punicoli che non servono per la reazione non escono dalla piramide non si sa che fine facciano ma vanno a sbattere guarda caso proprio con due camere segrete non ancora scoperte ma rilevate dalle apparecchiature che sono state trovate quindi ci deve essere una un collegamento tra gli shaft di sopra nella stanza del faraone e di sotto della regina si costruisce così un circuito la stanza della regina si riempie ad una certa altezza e costruisce una cosa che in fisica si chiama tubo di quinche a che cosa serviva tutto questo l'idea ce l'ha data per la specie di struttura che tutti chiamano zed e che sta sopra la stanza sul tetto diciamo così della stanza del faraone qualcuno ha detto è serve per alleggerire il peso della della piramide che sono farebbe crollare il soffitto del faraone questa è una vera e propria puttanata perché perché nella stanza della regina c'è ancora molto più peso e quella cosa lì non c'è e poi ci sono degli studi di stabilità fatti dai geometri e degli ingegneri italiani che mostrano che semmai quella struttura dovrebbe essere costruita al contrario per servire ad alleggerire il peso quindi quella struttura era un'altra cosa e noi abbiamo notato una cosa fondamentale che in questi cinque livelli questi giganteschi pietroni sono nevigati da una parte sola e dall'altra no e ci siamo chiesti come mai in parole povere per farla breve si tratta di una filtro passabasso di che cosa si tratta la piramide che è un monumento gigantesco pesa milioni di tonnellate con il vento che struscia sulle pareti produce una bassa frequenza quindi un infrasuono che non è pulito questo infrasuono passa attraverso queste strutture di granito vi ricordo che nel granito il suono a 1400 metri al secondo è quindi è più veloce nel granito che non nell'aria il suo entra purifica da tutte le altre più alte frequenze ed entra nella stanza una frequenza sola che è stata calcolata 32,9 hertz questa frequenza entra nella vasca vi ricordo che la vasca del di granito che un blocco solo a delle misure che sono legate a sono multipli di pi greco la sezione aurea e 4 e 32 che è un numero fondamentale perché un numero pitagorico sostanzialmente e che si rifà alla frequenza dell'universo in qualche modo dal mio punto di vista senza entrare nei calcoli che comunque sono ritrovabili sulle cose che ho scritto e preleva una frequenza della persona che sta dentro in questa vasca e questa frequenza che è di 389 hertz praticamente con la portante che viene dall'esterno produce una frequenza di 128 la quale entra nell'acqua e attraverso questo tubo di quinche passa sotto e va nella nella stanza della cosiddetta stanza della regina nella stanza della regina troviamo una specie di strumento musicale che è come un'arpa la cassa armonica di un'arpa che è incastrata nel muro praticamente con delle dei numeri delle proporzioni precise che ridona all'esterno cioè in aria la frequenza di 389 e troviamo sul pavimento della stanza della regina una forma circolare uno stampo c'era qualcosa in cui pavimento che era una specie di tubo immaginate un tubo di organo grande molto grande e questo con la frequenza di 389 versi vibrava e nel tubo che era probabilmente ma ve lo dico quasi sicuramente di legno nel legno in certi legni come l'acero il rumore il suono va a 5000 metri al secondo dentro questo cilindro tipo un sarcofago c'era il vero faraone il quale prendendo questa frequenza ne veniva beneficiato e riviveva ringiovaniva non moriva mai la frequenza 389 dai calcoli che noi abbiamo fatto in altre sedi era la frequenza della parte animica cioè di quella parte che noi abbiamo dentro di noi e che è sostanzialmente immortale questo è uno studio che derivava da quando noi studiavamo alieni cioè gli esseri che venivano da un altro mondo che cosa volevano da noi volevano la parte animica cioè quella parte di noi che è un gruppo di vettori e di tensori che vede il tempo in modo non locale direbbe bom che è un fisico quantistico cioè la parte che serve a ringiovanire tra virgolette detta così alla buona insomma la piramide era una macchina che serviva per non far morire il faraone la macchina dell'immortalità lo andiamo a vedere allora intanto poi c'è proprio su cnum lo andiamo a vedere c'è un'immagine lì accanto eccola qua dove se lo andiamo anche lei dice proprio la spiegazione quindi se la nostra regia poi ci dà una eccolo qua è il dio che con la dea cesate gestisce la così chiamata casa della vita è una struttura molto simile poi leggete anche tutto il resto perché insomma andremo proprio a trovare delle assonanze con quanto appena spiegato certo bisogna trovare per le cose che mancano che non abbiamo sotto mano bisogna andare nel mito e cercare di interpretare giustamente il mito perché il mito non è come la storia la storia storicistica cioè secondo chi va al potere per iscrivervi di storia invece del mito c'è il passato per esempio il futuro tutto in un'immagine sola quindi il mito dice la verità ma il problema è che il mito è scritto in termini archetipali quindi difficili da interpretare però nel caso della casa della vita ci sono più di 250 riferimenti sui libri sui 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 testi sui geroglifici e murali egizi della casa della vita che cos'era la casa della vita la casa della vita dicono gli egittologi era una biblioteca perché perché c'era la dea cesate che era la dea del dei libri della biblioteca ma c'era anche il dio club e chi era il dio club proprio con un kufu cioè il nome vero di camp il dio club era quello che prendeva l'anima da un corpo la staccava dal corpo e la metteva in un altro corpo e sembra proprio essere quello che noi non solo vedevamo nella ricostruzione di come è fatta la piramide ma che avevamo studiato anche quando facevamo l'ipnosi regressivo tanti anni fa da dove in ipnosi venivano fuori questi racconti dei prostiti addotti cioè rapiti dagli alieni che adesso ci arriva rimevano situazioni analoge a quelle egizi non solo ma la casa della vita di cui non si sa praticamente niente oltre che era posta con le pareti nella direzione nord guarda caso come la piramide di gizza o gizza che dir si voglia ma nella descrizione della casa della vita c'è scritto essa e sotto gli occhi di tutti ma nessuno la deve vedere ecco la piramide era proprio una cosa che è sotto gli occhi di tutti e nessuno aveva capito fino a oggi che non si trattava di una semplice tomba ma era ben alto facciamo il nostro solito riferimento a film serie televisive o qualcosa che può ricordarlo i primi che ci vengono in mente sono sicuramente stargate dove c'è questo imperatore che va nel sarcofago e guarisce rinasce tutte le volte fra l'altro come abbiamo già intuito ma lo diciamo bene questa cosa veniva fatta alle spese di qualche poverino perché era qualcosa che veniva tolta a qualcuno per essere data e permettere il allungamento della vita di questo faraone come anche c'è fra l'altro anche in x-men apocalisse però la scena iniziale si va semplicemente ad allungare la vita e anche lì lo si fa con questo liquido dorato che sale e va nel sarcofago in questione questo perché la fantasia cosiddetta di molti sceneggiatori spesso poi a qualcosa di pratico perché queste cose sono delle teorie che magari già si sapevano che si fa di tutto per tenere nascoste c'è uno c'è un motivo sostanziale perché troviamo nella filmologia nei romanzi nelle opere d'arte nelle poesie nelle storie nelle favole ritroviamo la realtà di quello che è stato perché se è vero che noi siamo i creatori dell'universo noi pur non essendone coscienti di questo abbiamo dentro di noi tutta la verità tutta la realtà di quello che è stato che succede e che succederà per cui non sapendo questo estroiettiamo a livello iunghiano fuori di noi quella parte di noi che noi non conosciamo per poterla vedere meglio e comprenderla proprio perché da dentro noi non riusciamo a capire quindi nelle nostre opere d'arte c'è semplicemente la parte di noi che vogliamo comprendere è per questo che noi facciamo dei film in cui c'è qualcosa che assomiglia molto alla storia che è veramente accaduta perché noi lì c'eravamo e lo sappiamo che cosa veramente è successo poi i dati scientifici se vogliamo portano con il buon senso a dimostrare la stessa cosa ma questo è un altro paio di mare e questi atlantidei questi esseri con la crepe col cranio allungato comunque non venivano da un altro pianeta secondo quanto ci sarà contato erano terrestri nativi sì la storia dell'altro pianeta e quando si cerca di nascondere la verità si dà la colpa a qualcuno che non si può trovare non si può chiedere che cosa ne pensava non lo si può interrogare quindi non perché non esista l'alieno perché in tutta questa storia l'alieno esiste ma non come ce lo vogliono far credere diciamo i detrattori di questa problematica e fare il dna l'analisi dna sui peschi di paracas per esempio questi allungati dolicocefali ha mostrato che il dna è sostanzialmente diverso da quello umano ma questo non vuol dire che questi signori con il cranio allungato che ritroviamo in tutte le parti del mondo dalla cina all'america latina all'australia all'inghilterra per esempio sono stati trovati dei peschi in inghilterra a stonehenge cosa che non sa quasi nessuno bene è vero che c'è il tna diverso ma questa diversità non è così eclatante come può sembrare in quella di un alieno io vi ricordo che tra la scimmia e l'essere umano c'è il 35 per cento di differenza del dna e la scimmia non è un essere terrestre è una scimmia quindi questi esseri umani che erano decisamente simili a noi tutto e per tutto avevano una caratteristica fondamentale quella che la differenziava un cranio diverso perché alcune parti del dna erano differenti ma di poco e poi avevano del rh negativo questo sì perché 36 mila anni fa compare rh negativo e 36 mila anni fa gli aflanti dei invadono il mondo e arriviamo alla seconda botta perché 12 13 mila anni fa ce n'è stata un'altra è già già dove sono finiti ci potremmo chiedere oggi gli antichi egizi che avevano costruito queste queste megalopoli oserei dire in tutte le parti del mondo e noi conosciamo quelle egiziane che si sono in qualche modo conservate un po meglio forse almeno come studio il mondo egizio è quello che è sicuramente più studiato che non le civiltà steche per esempio o si sa veramente poco che ne so delle tribù degli indiani micmac che avevano i geroglifici quasi uguali a quelli egizi per cui ci sono dei libri scritti in micmac che sono le preghiere che i gesuiti quando andavano dagli micmac dovevano parlare con loro dovevano insegnare le preghiere e quindi ci sono dei libri scritti in linguaggio micmac che sono praticamente geroglifici egizi geroglifici egizi che abbiamo trovato anche in australia allora che dire 13 mila anni fa un gruppo di meteoriti oppure un meteorite che si è rotto in tanti pezzi così dicono gli astronomi oggi è caduto sulla terra e se ne sono le tracce trappertutto e provocando un maremoto in mezzo mondo e uno dei maremoti più grossi sembra sia accaduto proprio nella piana di giza dove l'acqua sarebbe secondo alcuni cercatori salita più di 80 metri d'altezza e ci sarebbe rimasta per 100 200 anni tanto è vero che sono stati trovati dei residui all'interno della costruzione della piramide di molluschi fossilizzati di quel periodo che si dovevano stare nel mare e che invece sono affuccicati ai sassi della piramide 200 anni che cosa è successo la piramide si è riempita d'acqua rovinosamente ma questa volta in modo veramente rovinoso distruggendo tutto quello che c'era vi ricordo che zaki awa si disse quando noi siamo entrati nella piramide la prima volta ci abbiamo trovato due centimetri di sal gemma appiccicati alle pareti di tutte le stanze che abbiamo tolto manualmente questa è una cosa che non è quasi da nessun egittologo conosciuta noi troviamo nell'entrata della della piramide ci sono tre massi che sono in un corridoio che poi porterà alla grande galleria questi tre massi che sono dovevano essere ancorati in tre punti diversi perché si sono trovati gli ancoraggi sono rovinosamente caduti e scivolati tutto in fondo tanto è vero che per entrare i primi hanno dovuto costruire una via alternativa che agirasse questi giganteschi massi di granito perché da lì non si poteva passare quindi qualcosa ha distrutto il fango che c'era dentro di tutto c'era ha distrutto gli interni della della piramide l'acqua è evaporata lentamente lasciando per circa 200 anni la piramide ha lo stato brado veramente dopo di che l'acqua si è ritirata lentamente e in quel periodo una nuova migrazione di veramente antichi egiziani però trogloditi perché siamo all'età della pietra al neolitico dal sud dell'africa è migrato al nord dell'africa e se trovata le piramidi costruite già lì fatte questa civiltà le ha utilizzate come c'è scritto peraltro in una stele della stessa piana di gisa chiamata la stelle dell'inventario dove c'è scritto che il faraone di turno allora questo faraone l'ha restaurata la piramide ma non aveva costruita lui e quindi fra l'altro questa cosa di una civiltà che arriva e dice queste mega costruzioni questi megaliti erano già lì compare anche nel centro america e nello stesso periodo più civiltà dicono non le abbiamo fatte noi erano già lì e quindi è un elemento comune di una storia con il nero tanto è vero che i miti più importanti della storia non non sono stati importati dalla valle dell'indo o meglio alcuni sono stati importati dalla valle dell'indo che poi lo hanno importati nella nella zona del tigri dell'eufrate che poi l'hanno importati in turchia che poi l'hanno importati in egitto poi l'egitto è stato studiato dai greci e noi ci troviamo oggi con gli stessi miti gli stessi denti arrivano gli antichi romani che erano gli antichi dei della valle dell'indo noi ritroviamo la bibbia riscritta non solo in ebraico ma riscritta 12 8 mila anni prima sulle tavolette sumere ma le ritroviamo ancora 34 mila anni prima nella civiltà di harappa e di mohen jodaro nella valle dell'indo quindi evidentemente tutta la storia che ci vuole si vuole far credere non è la storia così come scritta sui libri ma manco ci assomiglia per niente pensate che noi ritroviamo il mito di gesù cristo non solo nella nona reincarnazione di disnu che è christian joshua christian cioè gesù cristo ma lo ritroviamo in alcuni in alcuni disegni in alcuni codici degli astechi che mostrano questa persona con la barba che ci aveva la croce che è stato crocifisso che ha fatto i miracoli e la stessa storia identica però scritta prima dei 4 mila anni fa e che è una storia importata quasi sicuramente dagli antichi atlantidei e fra l'altro quello era il periodo di questo grande diluio che compare un po ovunque e se tanto mi molti siti noi li dovremmo cercare dove ora c'è c'è l'acqua e quindi insieme a mai giandaro sulla stessa costa indiana e anche altrove in giro per il mondo ne vedremo ancora delle belle ecco la mettiamo così sì ne vedremo ancora delle belle se le persone che sostengono che la piramide di giza ha circa 4 mila anni la smetteranno purtroppo sono le persone che ora insegnano queste stanzate a scuola e che hanno vinto dei concorsi truccati e che quindi probabilmente non ce ne libereremo più tanto noi facciamo finta quindi possiamo dire cosa vogliamo anche in televisione ma io ho scoperto devo dire grazie a te perché mi piace questo questo tuo passare anche dall'india sui vimani kashastra io l'ho sentito in una tua conferenza fra l'altro poi verso la fine della puntata lo andremo anche a vedere da quanti anni seguo le tue conferenze c'è un aneddoto che vedremo alla fine ma ai tempi del rimani kashastra quindi questi rimana di una civiltà in antitesi agli asli di un'altra civiltà denominata a strana di pietra si gli antichi indiani o meglio gli antichi dei indiani che erano umani beh di loro si sa oralmente perché la scrittura ancora dravidiana non c'era così si c'erano degli uomini libro che si passavano tra di loro il 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 resoconto di ciò che era successo prima del di lingua universale cioè prima di 12.500 anni fa quello che succede è che noi ci troviamo di fronte alle descrizioni questo manica shastra che vuol dire shastra è trattato trattato su di mana di mana è quella casa che vola con dentro le persone questa sarebbe la tradizione la traduzione più simile dove questi di mana mostrano delle proprietà incredibili cioè delle tecnologie assurde c'hanno il radar c'hanno la televisione c'hanno il raggio distruttore e questi di mana facevano la lotta contro altri soggetti che venivano da un altro posto che qualcuno pone in america latina e gli astlan erano coloro che guidavano gli ashwin gli ashwin e i vimana si facevano la guerra tra di loro e questo risulterebbe perché 36 mila anni fa prima che la prima luna piccolina calde sulla terra noi avevamo due grosse civiltà che gli erano di harian e gli astlan che parlavano la stessa identica lingua cioè erano sostanzialmente due culture uguali ma con l'espressione della dualità non c'era più la grecia che la magna grecia che faceva la grecia che faceva la guerra a troia oppure i russi che fanno la guerra agli americani ma c'erano gli ari e gli astro che parlavano la stessa lingua quando gli astro sono completamente scomparsi ai glottologi non mi è rimasto che credere che gli indiani o più parli di una lingua indoriana perché gli indiani dell'india sono andati fino in america del nord cosa che è assolutamente incredibile poco logica impensabile viene in mente atlanti delle muri a un po come contrapposizioni le muri è un'altra storia le muri a è una storia completamente diversa che potrebbe essere molto ma molto ma molto più antica di 40 mila anni fa e che ha a che fare con la civiltà probabilmente la civiltà inviata quindi si rientra in una sfera di azione completamente diversa questo per dire noi abbiamo ricostruito grosso modo con le nostre ricerche la storia di degli ultimi 40 mila anni ma quello che c'era prima non abbiamo la più palida idea ci avviciniamo ci avviciniamo perché perché voglio quindi da questa nuova interpretazioni delle piramidi che è un po un elemento anche nuovo per chi ti conosce da tanti anni chi ti segue da tanti anni ecco trattiamo che questo argomento dovendo citare un film mi invita a guardare il quarto tipo perché partiamo proprio di qui perché ai tempi di quando è uscito il quarto tipo io seguivo proprio le tue conferenze e ho trovato un sacco di analogie quindi andiamo a parlare di queste ipnosi di queste ipnosi regressive e quindi proviamo sempre facendo finta sempre andando veloce tanto c'è tanto di quel materiale che uno si può anche un po così meravigliare di scoprire su youtube e su tutti i tuoi libri e tutti i tuoi blog trattiamo l'ipnosi che cosa veniva fuori dunque è il problema è proprio lì perché io mi sarò mai interessato delle piramidi ma neanche nell'anticale del cervello mi rende in mente di scrivere un libro sulle piramidi però per 25 anni circa io ho studiato all'interno del fenomeno ufologico un particolare aspetto del fenomeno ufologico cioè l'addaction il fenomeno di rapimento alieno e l'abbiamo studiato con tra le altre tecniche con ipnosi regressiva quindi abbiamo messo in ipnosi circa 3500 persone con gruppi di ipnologi diversi e abbiamo confrontato i dati quello che veniva fuori è che il soggetto viene prelevato da questi esseri che vengono da un altro mondo che sono di diversa natura che collaborano o botto ortocollo insieme perché ognuno vorrebbe invece tutta la ciliegina della torta che ora diremo che cos'è prendono i soggetti li portano una macchina volante e tolgono dal loro contenitore una cosa dal loro corpo una cosa che è è una frequenza cosciente è una cosa vivente è una parte di noi che noi abbiamo chiamato perché non sapevamo come chiamarla parte animica questa parte animica che la rappresentazione sostanzialmente del femminile dentro di noi diceva in ipnosi 3500 ipnosi hanno ripetuto 3500 volte la stessa storia che la parte animica era la vita era la luce nella luce ed era qui per fare l'esperienza l'esperienza della vita l'esperienza della morte proprio per capire che la morte non esiste e cosa volevano questi esseri che ti vengono a prendere diceva loro vogliono me perché io non muoio e loro non vogliono morire si scopriva così che dentro dietro il mito del ritratto di dorian gray c'era la storia del diavolo il quale chi ruba l'anima e sostanzialmente il diavolo che ti ruba l'anima per i nostri antichi nonni altro non era che l'alieno moderno di oggi che in realtà non era un demone ma era qualcuno che utilizzava una parte che noi avevamo la parte animica e che lui non aveva perché lui aveva paura di morire lei veda fra l'altro si parla di oltre 400 mila specie umanoidi in giro per la per lo spazio di cui molte sono passate sulla terra seguendo un po le tue conferenze per sommi capi c'era anche proprio una sorta classificazione degli alieni che andavano a comparire tramite questi lavori ne possiamo citare qualcuno sì dunque noi abbiamo visto una vicina 10 12 specie differenti che sono quelli che compaiono sempre nelle ipnosi e che sono molto rapidamente quello che noi chiamiamo il pionda cinque dita altezza 2 metri e 40 di solito vestiti azzurro chiaro o giusto studio con uno stemma qui su spettorale fatto come lo stemma della massoneria qualcosa che assomiglia molto alla allo stemma della massoneria moderna non a caso la massoneria poi deriverà da lì storicamente ma questo lo dimostreremo nel tempo quelli che qualcuno chiama playa di a con la presi ramati e gli occhi con le piccole verticali l'unico alieno provvisto di femmina che sta sempre dietro mezzo metro dietro poi abbiamo l'alieno serpente quello che è di noi non rettile che si poggia anche su una grossa coda quando sta fermo anche lui è alto 2 metri e 40 circa con questo gorgoglio di respiro molto pesante e la partebra l'opteriggio che mi si alza l'orecchio che si chiude cioè proprio un anfibio con queste mani con questo funcino sul corso come il dito dei gatti sostanzialmente poi abbiamo un essere piccolino nero un metro e venti sembra nudo con tre dita il pollice opponibile ma questo è una specie di roba biologico che non comanda niente è utilizzato come servitore sostanzialmente di solito vengono sempre il numero dispari o tre o cinque quello di mezzo il piccoletto di mezzo a un pochino più alto e porta in mano la bacchetta che è la bacchetta che è un teser sostanzialmente serve per darti la cosa se tu non rispetti quello che loro vogliono che tu faccia e che poi dimenticherai con un lavaggio del cervello quando ti rimettono a posto poi c'è un biondo alto molto alto a seguita vestito di bianco tutto con i capelli che sembrano quelli della barbie mi disse una volta una dotta sembrano di plastica sono tutti uguali e poi ci sono l'alieno è un uccello gigantesco quattro metri e mezzo di altezza con questo becco e questo barginio e questa cosa che ha qui nel centro della fronte che sembra proprio la mimazione dell'antico dio egiziano ra orus che aveva l'occhio qui al centro della fronte e la barba sacra e queste specie di ali di penne che gli si aprono che sembrano ricopiare chiaramente il complicato degli antichi egizi e qui capite bene che il dio Enki e il dio Enki potrebbero essere la rappresentazione di questo uccello gigante quattro metri e mezzo e del serpente il quale ritrovavamo nelle descrizioni non solo della Mesopotamia ma anche della merita latina con quel sacco ha il suo fratello uno fiumato e l'altro quindi pennuto e l'altro un vero e proprio serpente insomma ritroviamo anche nell'egitto il rapporto tra il dio che ha le fattezza del serpente dell'alligatore e il dio che ha come l'horus le peline sostanzialmente perché è un volabile quindi questo mito era un mito che girava in tutte le parti del mondo se questo mito avesse voluto descrivere questi soggetti che erano umani ma dandogli delle accezioni particolari per le loro proprietà avremmo trovato in tutte le culture descrizioni di queste coppie differente invece le coppie sono uguali sono sempre un uccello è un rettile questo cosa ci fa pensare che effettivamente questi soggetti erano fatti così in qualche modo rappresentavano un rettile inserpente perché altrimenti non ci troveremo questo mito invaso in tutte le parti e veniamo fra l'altro penso di seguire le tue conferenze da almeno 15 anni e lo dico perché ho ritrovato preparando questa questa intervista grazie anche il mio amico sebasti anche colui che ha fatto un po l'intermediazione per questa intervista che ringrazio e saluto in quel di parigi nera era il 2009 era 2009 noi abitiamo a torino io ero proprio a casa di sebastiani quel di piazza vittorio guardiamo il cielo e troviamo un cubo nero questo cubo nero l'aspetto più interessante che puntandogli la fotocamera del telefonino di allora che è passato dieci anni ma sono già molto diversi da questi era schermato non si vedeva nulla quindi puntandogli non si vedeva nulla siamo riusciti a fotografarlo solo grazie all'aiuto di una di una camera invece con un'ottica meccanica con questa foto sebasti la mando a te la mando a te e la ritroviamo nel blog e lo andiamo anche a vedere perché infatti abbiamo visto anche qualche immagine perché era un po il nostro punto di riferimento sono passati più di dieci anni noi già seguivamo da qualche anno le tue conferenze la prima cosa che ci viene in mente mandartela e poi sempre negli stessi anni ricordo anche di sei sfere luminose che viaggiavano a velocità un po strane si mettevano informazioni un po strane e anche qui le ritroviamo nel tuo blog e la andiamo a vedere poi del cubo nessuno ci ci spiegò mai nulla sulle sfere ci dissero che che erano un po così mongolfiere piuttosto che lampade cinesi quindi è un po è un po strana questa cosa però è curioso non so se ti ricordi era un periodo in cui le dichiarazioni della professoressa che lui prestavano allora non c'era il web ma c'era la televisione e se dovessimo avessi voluto da retta la professoressa nota astronoma di quel tempo però con una mentalità estremamente chiusa il cielo sarebbe stato pieno di fulmini globulari e palloni sonda purtroppo non era così purtroppo non così poi ci fu il 2012 poi siamo andati avanti tanto tutti questi anni per arrivare un po ad oggi c'è stata un po in qualche tuo lavoro una previsione qualcosa che ti potesse far capire che nel 2020 saremmo arrivati un po in questo stato in questa pandemia in questo in questo momento così strano no quello che si poteva prevedere che io avevo previsto era che l'essere umano per una legge che secondo principio la termodinamica la sua coscienza che è uguale all'entropia sostanzialmente aumenta sempre questo è il secondo principio la termodinamica quindi noi diventiamo sempre più incapaci di essere gabbati cioè mentre si sembra guardandoci fuori che la stupidità della gente aumenti non è proprio così la maggior parte della gente sembra sempre più stupida e questo perché tutti i governi che hanno sempre cercato di renderci la nostra scuola invidibile hanno centrato nel versato perché un governo è chiaro che non vuole che il popolo capisca perché sennò noi 40 anni di andreotti non l'avremmo tenuto e non avremmo tenuto neanche 23 anni di verlusconi ma l'entropia purtroppo gioca un ruolo a nostro favore quindi l'entropia ci dice che noi stiamo andando verso la dimensione della comprensione anche se la maggior parte del popolo capisce poco c'è sempre qualcuno che capisce talmente tanto che sarà quello il bastone da mettere fra le ruote a chi governa che non vuole che noi si capiscano le cose che dobbiamo capire rivisitazione della storia rivisitazione del fatto che io sono uno di quelli che non crede assolutamente al fatto che noi siamo andati sulla luna mi dispiace sono con mazzucco in questo da questo punto di vista e ci sono lettori gemelle gli americani se ne sono buttate giù ecco queste è chiarissimo non è che sono un negazionista negazionista e chi dice il contrario cioè chi nega l'evidenza dei fatti e in quel momento noi abbiamo capito che saremo arrivati ad abbandonare lo studio di fenomeni ufologici per comprendere una cosa fondamentale non si possono studiare gli alieni se non abbiamo capito come è fatto l'essere umana ed è per questo che io dagli alieni sono passato a studiare la coscienza di nuovo direi che di carne al fuoco anche qui ne abbiamo messa veramente tanto per ogni frase che ci siamo detti meriterebbe una puntata nello specifico ma trovate già tutto nei libri e sul canale youtube il professor malanga vi invito ad andarli a verificare se io dico sempre che se la gente a casa si è divertita meno la metà di quanto mi sono divertito io nel farla questa intervista abbiamo raggiunto il nostro obiettivo qualche domanda da casa sicuramente l'abbiamo un po così suscitata e non mi rimane che ringraziare professor corrado malanga per essere stato insieme a noi e spero di averli assunto bene questi 15 anni che ti conosco che seguiamo un po tutti i tuoi lavori di cui non possiamo che congratularci sì e io non posso che ringraziare voi perché mi avete dato l'opportunità di raccontare queste cose grazie mille a voi che ci avete seguito mi invito a cercare anche tutte le altre puntate su tutti i social abbiamo su youtube su facebook su spotify su patreon insomma un po ovunque trovate di noi e di queste puntate e come al solito tanto noi facciamo finta quindi nessuno si deve sentire offeso o urtato da quanto noi diciamo perché è un programma di fantascienza ma noi nel fare finta ci raccontiamo queste cose sempre con grandi personalità quindi ancora grazie a corrado malanga grazie a mano le nostre regia e grazie a voi che ci avete scelto anche questa settimana grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi